Poi, con il numero 13, Cecilia Soleini, portiere! Vieni Cecilia! Allora, queste ragazze sono atlete, ma... è un pianino, eh, qua! Cecilia, anche per te, un omaggio floreale! Cecilia, accomodati pure accanto a Giulia e andiamo avanti con il numero 15, Sara So, portiere! Allora, queste sono le saracinesche della Mediterranea. La Mediterranea è vera, certo! A Giulia mi diceva una volta, dice, ho preso mezzo gol, l'unico del quale mi sono accorta, gli altri non è vero. Sara, allora, l'omaggio floreale anche per Sara, andiamo avanti con il numero 7, Francesca Pomeri, difensore di Francesca! Francesca Pomeri, detta la contadina, è questo, questi sono nomi, perché poi c'è il grande tifo della Mediterranea, ecco, hanno il loro soprannome. Poi, con il numero 11, Laura Drocco, difensore! La dottoressa! La dottoressa! La dottoressa! La dottoressa! Con il numero 3, Elena Borriello, difensore! Lei non ha ancora lo sopporto, ma c'è tutto il tempo per poterglielo affidare, stanno lavorando! In questo anno, adesso lavoriamo, chiederemo aiuto alle sue compagnie di squadra! Ecco, rovinata! Va bene, allora, poi, io chiamo il centro vasca, Jamila Tedesco, che però non è qui con noi, ma le farei comunque un applauso, perché Jamila in questo momento si trova in Australia, perché come vi dicevo, poi per tanti motivi diversi, le ragazze sono impegnate, purtroppo lei non è qui con noi oggi, ma la ritroveremo naturalmente in campionato. Poi, con il numero 15, Margherita Garibbo, invece, centro vasca! Vieni, Margherita! Ecco, il soprannome di Margherita, sorrisone! Poi, con il numero 10, Martina Bencardino, centro vasca! Allora, ci avviciniamo, stiamo un po' più avanti noi, in modo tale che le ragazze si possano... Ok, con il numero 12, Sara Moretti, centro vasca! Ciao, Sara!